Allora, Carlo scrive Il pick-up artist esperto sa farsi inseguire Sa farsi inseguire, hai detto prima Ma in altre scuole valorizzano i loro studenti Che sanno farsi inseguire su Tinder, Instagram, ecc Sì, so anche di chi stai parlando Però non facciamo nomi Va bene, è sicuramente una caratteristica positiva Sapersi far inseguire su Instagram, su Tinder Ma il problema è poi farsi inseguire dal vivo Io non so alcune tecniche lì Non so spiegare qua perché non credo sia il posto più appropriato Alcune tecniche anche per farsi inseguire via messaggio E fondamentalmente però sono, diciamo, le stesse che applichi dal vivo Che però poi rifletti anche via messaggio Diciamo, sono diverse cose Il farsi inseguire si ottiene tramite il non essere bisognoso Ok? Quindi si ottiene tramite questo Ma il punto che... Il problema di queste persone che si sanno far inseguire su Tinder o su Instagram È il problema che bisogna farsi inseguire dal vivo Se tu sei capace di farti inseguire solo su Tinder, solo su Instagram E poi dal vivo o no È un problema Io quando avevo iniziato Quando sono entrato in contatto con il mondo del game, della seduzione Per sette mesi mi sono dedicato soltanto alle chat Quindi fare game online, quindi approcciare ragazze su Tinder, sulle varie chat di incontri Perché fondamentalmente mi cagavo sotto a uscire e praticare dal vivo Quindi era quello là il concetto E ero diventato bravo via chat Forse c'erano ancora alcune chat vecchie che fanno anche abbastanza ridere E ero diventato bravo Ma il punto che poi dal vivo invece non lo ero Quindi via messaggio siamo tutti fighi E poi però dal vivo non è così Basta guardare in giro per strada Ogni tanto vedo qualcuno che approccia per strada Magari ci vado anche a parlare Chiedo, non tu stai facendo dei game? Sì, che risultati hai? Non ha risultati E però magari via chat sono bravi Che poi l'essere bravo via chat Non è misurato dal fatto che prendi il numero O magari che la ragazza ti scrive cose interessanti Ti scrive le porcherie Parla di sesso con te Eccetera L'essere bravo in chat Il parametro che lo misura È il fatto che poi riesce a uscire con la ragazza Non il fatto che lei ti scrive cose Ti scrive le porcherie Ti scrive che sei stato bravissimo Che tutti dovrebbero fare come te Non ci sono ragazzi interessanti in chat Ma se poi fondamentalmente la ragazza non arrivi a rivedere Non sei bravo in chat Grazie mille Grazie a tutti.